Un uomo di 40 anni, volontario della protezione civile, ha avuto un malore nell'area antistante e la zona vaccinale contigua al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. L'uomo aveva appena eseguito il richiamo del vaccino Pfizer anti-Covid e poi aveva preferito trascorrere la fase successiva all'inoculazione anziché nella sala d'attesa nello spazio antistante l'area vaccinale. Improvvisamente è stato colto da malore, è caduto a terra ed ha battuto violentemente la testa. È stato immediatamente soccorso e quindi trasportato per le conseguenze della caduta e della ferita alla testa prima al pronto soccorso del San Donato e qui è stato subito curato e stabilizzato poi è stato trasportato all'ospedale delle scotte di Siena.